7.13 del 27 giugno 2023 Ciao a tutti amici nerazzurri! Cominciano le visite mediche estive Oggi è il giorno di Marcus Turam L'Inter è sempre lo stesso Linate privato, Humanitas, Coni e Sede Salteremo solo la tappa dell'Humanitas per richiesta dell'Inter Come è già successo lo scorso anno Qui leggete un internews.it Nel corso della mattinata poi vi racconto Ma adesso non posso andarmene Prima di avervi ricordato di UFO Calcio Magliette a prezzi bassissimi Qui vedete la prima dello scorso anno Con tutti i dettagli curati, logo cucito Questa me la sono presa di nessuno Ma con la patch della Champions Mentre la terza l'ho presa di bastoni Con la patch della Serie A La vedete qui Fino al 30 giugno c'è un'offerta imperdibile E con il codice sconto Inter Avrete il 10% di sconto Trovate tutto in descrizione Link compreso Mi raccomando Non perdetevi l'offerta Date un occhio ad UFO Calcio Per magliette a prezzo bassissimo E con il codice sconto Inter Un altro 10% di sconto Adesso però prima che si faccia tardi È meglio andare verso Marco Sturam Oggi è il Turam Day Finalmente siamo tornati con le visite mediche Andiamo Siamo a Roboredo E ne approfitto per spiegarvi cos'è Internews.it È una testata giornalistica online Dedicata al mondo inter Ovviamente come dice il nome E da quest'estate ci collaboro per i video Quindi tutti i video che vedrete Degli arrivi dei giocatori Saranno inter per sempre Per internews.it Ora prendiamo l'88 Che ci porterà vicinissimo All'Inate Prime Alle 9.30 Marco Sturam Atterra Milano Appena scesi Sono le 9.25 Ma non siamo in ritardo Perché in ritardo C'è Marco Sturam Che non atterrerà alle 9.30 Ma alle 10 Siamo vicinissimi All'Inate Prime Ed eccoci All'Inate Prime Perfettamente in orario Ripeto Marco Sturam è in ritardo C'è il Volvo dell'Inter Che aspetta il giocatore Non ci faranno entrare Non faranno entrare Nessun giornalista Ma A quanto ci hanno detto lì Lo faranno avvicinare alla rete E poi Li faranno Abbassare il finestrino Addirittura Lo faranno scendere dalla macchina Questo lo vedremo Non appena arriverà Intanto ci siamo Marco Sturam Sta arrivando a Milano All'Inate Prime All'Inate Prime Grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno. 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 Forza Rapoli! Grazie, scostate. Giocatore atterrato, noi ci avviamo al Coni mentre lui andrà all'Humanitas per la prima parte di Visite Mediche. Arrivati al Coni, si tratta di aspettare una mezz'oretta, in realtà sono qui da praticamente tre ore. 13.30-14, Turam arriva qui per la seconda parte di Visite Mediche, la parte dell'Humanitas l'ha già finita. Facciamo vedere, si apre la porta, ecco, Marcus Turam, primo appunto, che saluta qui tutti quanti con la sua età. Marco, raccogliamo solito le immagini, chiediamo un saluto, la sciarpa d'ordinanza per questo primo appuntamento dell'estate dell'Inter che dunque con il mercato... Vai dietro, grande Marcus! Grande Marcus, apre il finestrino! Grazie Marcus, come sempre! Eccoci arrivati in sede tra i rumori del cantiere, ma ci siamo tra una mezz'oretta alle 16 atteso Marcus Turam qui per la firma sul contratto e ufficializzare il passaggio all'Inter. Ragazzi, 19.25, Turam è entrato ora in sede, ci sono le 19.25, assurdo, assurdo ma Turam sta per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il sole se ne va alle 19.40, ce ne stiamo andando anche noi ragazzi. Finisce qui il Turam Day, ma il video lo concludo a casa per farvi capire quante ore sono passate dalla prima clip. 20.38, siamo arrivati a casa, questo era il nostro video del Turam Day. Se vi è piaciuto mettete un like, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella per seguire tutti i nostri video e tutte le nostre live. Passate da tutti i nostri social che trovate in descrizione, vi ricordo Ufo Calcio, offerta fino al 30 giugno, trovate tutto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video e alla prossima live. Forza Inter! Ciao!